www.marizopoli.it, interessante spunto di riflessione da parte dei tal preziosi sulle medaglie d'oro dei giochi olimpici. Ma quanto vale una medaglia d'oro dei giochi olimpici di Parigi 2024? La medaglia d'oro di Parigi 2024 pesa 529 grammi circa ed è principalmente composta di argento con solo 6 grammi d'oro, pare all'1,3% del totale, quindi il valore economico è piuttosto modesto. Fino ai giochi del 1912 le medaglie erano interamente d'oro, poi a caso della prima guerra mondiale le strettezze economiche hanno iniziato a placare le medaglie in oro. Da allora ogni edizione dei giochi ha cercato di richiedere le medaglie con dei dettagli unici. Parigi 2024 ad esempio ha inserito un pezzo di ferro della torre Eiffel aggiungendo oltre al valore economico e celebrando il patrimonio della città ospitante con un valore simbolico inestimabile. Una buona estate e alla prossima!